A tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per la pagina sportiva del TG Noi che apriamo con il calcio, dunque in Serie C, seconda giornata, secondo turno infrasettimanale di questa stagione per la Lucchese, la gara interna contro il Prato. E di questa partita vi daremo ampio resoconto nelle prossime edizioni del TG Noi Sport. Passiamo al campionato di Serie D e provvedimenti del giudice sportivo in merito alle gare giocate domenica scorsa, due giornate di squalifica a Biagio Pagano del Ghiviborgo, una giornata a Nicolás Bresciani-Seravezza, Falchini-Realforte-Qerceta, Cipriani-Viareggio e un turno di squalifica anche all'allenatore Carlo Bresciani del Viareggio. Rimaniamo in Serie D per tornare a parlare del Ghiviborgo, una domenica da dimenticare tra le poche note liete il centravanti Ciccio Di Paolo. Il Ghiviborgo è in difficoltà, lo si è capito in modo evidente nella partita contro il Ponsacco perduta 2-1 dai bianco-rosso-azzurri di Simone Venturi. Va bene l'attenuante del campo pesante per una squadra che ha concesso centimetri e chili in ampia dose agli avversari, ma è anche vero, e questo lo hanno capito pure i dirigenti, che qualcosa andrà fatto in sede di mercato. L'obiettivo è infatti quello di evitare che si complichi una situazione già non esaltante, 11 punti e 13esimo posto in classifica non sono soddisfacenti. Tra le poche note liete emerse dalla gara dello Stadio delle Terme la ritrovata vena del centravanti Di Paola, che di palloni utili ne ha visti ben pochi. Sentiamolo raccontarci lo spunto da cui è nato il gol del momentaneo pareggio. Sì, ho vinto un rimpallo, poi sono stato bravo a saltare l'uomo e mettere la palla sul secondo palo. Peccato che dopo pochi minuti abbiamo ripreso golle, quindi poi è stata dura e non ci abbiamo fatta a portare via almeno un punto. Archiviata la sconfitta con il rosso-blu di Giovanni Maneschi, adesso si deve guardare avanti. Incombe il derby di Seravezza contro la capolista, una delle tre capolista guidata dall'ex Walter Vangioni. Difficilissima come tutte, purtroppo fino adesso partite facili non ne abbiamo trovate, anche con squadre sulla carta di bassa classifica. Dobbiamo andare col coltello fra i denti e cercare di fare i punti in tutti i modi perché la classifica è un po' bruttina. In eccellenza Tegola pesante sul Castelnuovo, stagione finita per Giacomo Cecchini. Il forte centrocampista giallo-blu dovrà infatti sottoporsi ad un intervento chirurgico dopo la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Lunghi tempi di recupero, almeno 5-6 mesi, il calciatore si era infortunato durante la gara col Grosseto, il Castelnuovo perde una pedina fondamentale e la società pare intenzionata a tornare sul mercato. Martina Crippa e Federica Tognalini sono le due giocatrici del Gesan Lemura Campione d'Italia, convocate con la nazionale italiana, attesa nei prossimi giorni da due gare valide per la qualificazione ai campionati europei. La Crippa, capitano della squadra Campione d'Italia, avanta 82 presenze in maglia azzurra, mentre la Tognalini è al debutto con la nazionale. Da segnalare con altra giocatrice del Gesan Lemura, veste la maglia della sua nazionale, in questo caso la svedese Binta Dramme. Parliamo di hockey con il Cigi Civiareggio sconfitto a Follonica. Roy Lepore. Il certo giovane calciatore è uscito sconfitto dal capannino di Follonica con il punteggio di 6-5. Sott'accusa molte decisioni arbitrali, una bella rimonta non è bastata ai bianconeri per cercare di riportare la partita in parità dopo che all'inizio era sotto di 3-0 la squadra bianconera. Dopo tre minuti Federico Pagni segna sul rigore. Al settimo viene espulso Costa e Barozzi però para il tiro diretto di Martinez. In superiorità numerica, dopo un intervento dubbio su Montigelli in aria, raddoppia ancora Martinez. All'undicesimo espulso Rodriguez, Ventura trasforma il tiro diretto che viene fatto ripetere addirittura due volte e poi parato da Menichetti. Al quattordicesimo azione personale di Rodriguez che segna il 3-0. Tre minuti dal termine della conclusione del primo tempo viene espulso Costa per proteste e gioco fermo per i bianconeri iniziano la ripresa in inferiorità numerica. Dopo otto minuti segna Mirko Bertolucci su un'azione personale. Al nono pareggia ancora i riconti paghi. All'undicesimo il Cgc sfrutta una superiorità numerica segnando con Mugna. Quattro minuti dopo ancora una bellissima rete di Mirko Bertolucci. Al diciottesimo Menichetti para a Muglia un tiro diretto per il decimo fallo. Mentre un minuto dopo Martinez trasforma il tiro diretto battendo Barozzi. Al diciannovesimo gol di Ventura da fuori per il 5-4. Al ventesimo Martinez trasforma un altro tiro diretto. Al ventunesimo prima un patto in aria del Folloni che poi un fallo da blu su Ventura. non vengono sanzionati dai direttori di gara. Poco dopo viene espulso Montigelli. Barozzi para il tiro diretto. Ventura segna infine una rete ma che viene annullata. A 23 secondi Gavioli segna il 6-5 che lascia davvero molto amaro. La rincorsa per il pareggio sfuma con la sirena. Tanti titoli regionali per gli uccellini del gruppo podistico Parco Alpi Apuane che hanno chiuso in bellezza il mini criterium toscano. Nel dettaglio i giovani atleti di Piero Fabio e Aurora Casotti hanno conquistato la medaglia d'oro tra i cadetti con Damiano Giannoni, argento per Alessio Brocchini e bronzo per Federico Paoli. Tra le cadette doppio oro e parità di punteggio per Francesca Lorenzi e Sara Simonini. Tra le ragazze oro di Sara Bonini e argento di Sara Bravi. ed infine nella categoria esordienti oro per Federico Luti e argento per Thomas Bertocci. E ora parliamo del 33esimo premio Viareggio Sport Gerardo Joè. All'Hotel Principe di Piemonte si è svolta la 33esima edizione del premio Viareggio Sport Gerardo Joè. Sempre numerosi premiati da parte degli organizzatori. Tra questi Elena Pirrone, bicampionessa mondiale di ciclismo. È una grande emozione, una gara cercata, una vittoria cercata e è una vittoria che mi porta a grandi soddisfazioni. Profetti in patria, Andrea Galzoli, direttore generale della Spalla. Fa piacere tornare e prenderlo anche da dirigente. È chiaro che molti dei meriti in questo momento qui vanno alla Spalla. È Andrea Masiello, difensore centrale dell'Atalanta. È importante andare bene, fare quello che sto facendo con l'Atalanta, che è la cosa più importante. Trovarsi sempre pronti, mettersi a disposizione di miei compagni. Un affezionato del premio è anche Alessandro Bonan, collega di Sky. A Viareggio state bene. Devo dire che a Viareggio state meglio che da altre parti d'Italia e non di qualche. La Fiorentina ti fa un po' soffrire. La Fiorentina è una squadra un po' malinconica, devo dire la verità. È una squadra che trasmette un po' malinconia. È in una fase, diciamo, è in un interregno, come si dice, non è né carne né pesce. Gli onori di casa li ha fatti il sindaco di Viareggio, Giorgio del Ghingaro. Premio che porta il nome della nostra città. Un premio che non premia solo lo sport, ma le persone. Con questo si chiude anche la pagina sportiva. Vi ringrazio per l'ascolto. Dopo una breve pausa il Tg prosegue con la terza ed ultima parte.